Bellissimo è un primo episodio, lo voglio rivedere Sì diciamo Sì ho spento Non mi ha trovato più di tanto È stato bellissimo tranne quella parte dei tronchi Che veramente la cicela era fatta mai Eh già è vero Non mi è piaciuto per niente Era solo dei tronchi No 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 ti giuro, poi si vedeva che era C'era il gris screen, veramente la Marvel Ha usato un budget veramente penoso Ma che stai facendo? Non ho più veloce io No Ragazze No vincco io, vincco io Che cosa stai facendo? Non c'è più veloce Ehi basta, basta Perché? Perché ci hai fermate? Ma perché? Stanno mochereggendo Sì ma state sudando troppo Non vi sentite male dopo un po' No ovviamente io sono più veloce In questa casa sono Ma che cosa stai dicendo? Ragazze stavate andando agli 80 km Tu non credo che tu possa muoverti con quei caleoni sul petto Non mi penso che tu sia fissa per terra Beh in realtà posso Cioè sono bella fissa a terra E posso camminare E correre tranquillamente E tu invece posso Invece posso un filo di vento Che vuoli via Ma è diventato una risosso Ma è diventa una risosso Ma è diventa una risosso Ma è diventa ma è diventa Ma è diventa, ferma Verme, ferma Facciamo una cosa ok Facciamo che Ecco Vediamo chi è più veloce tra voi due Con un bel nascondino Che ne dite? Cosa? Gianocca Tutti quanti bene Mi raccomando Trucco Non arroccarti come fai di solito Mettiti in un posto giusto Va bene? Non metterti ogni volta In culandia Va bene? Grazie In culandia Senti cerco di vincere Ok Ed è iniziata 5 minuti da partire da adesso Ok Dai Sì 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 Ok allora posso Dove posso mettere? Mi aspettate Allora dove Oh Magari qua sotto Oh qua sotto ci potrebbe stare Però non vedo un cacchio Io vi sto cercando Magari qua Dove posso mettermi? Magari Ah sì sì certo Ho capito dove posso mettermi Magari posso mettermi qua Ok Magari qua così Ah che schifo ho rotto Oh ma bravo che schifo Ok Che schifo voglio dire Che fortuna Ok Ok sto bene Sto bene Oh sto benissimo anzi Dai non te lo nascondi io Che cavolo Mi sono messo bene Io mi sono nascosto benissimo Nella villa Perfetto Ti sicuro? Se ti trovassi tipo ora Se fossi dietro di te a guardarti Non mi stai guardando dietro di me Ti sto Altrimenti l'avrei notato Quindi a posto Eh se fossi Ragazzi In questo momento In questo momento ragazzi Dovete iscrivervi al canale Ora Mettete la vostra iscrizione Ecco vedete Stanno arrivando le iscrizioni Se voi vi iscrivete al canale È molto più probabile Che potete diventare Un'affarezzata Come tutti quanti noi Quindi iscrivetevi Ok Bene Sto vedendo una persona arancione Dalle sembianze di un'arancia Che si sta camminando All'interno della villa È stata appena trovata Da una persona Con le sembianze Più simili a quella Di una mela Un peperoncino Di una mela Di una mela Di una mela Ma che cosa Che cavolo Ok Cosa Ha detto che vedeva Una persona Arancione Sì E che E che Vedeva una persona Che bello Sì vabbè Fatti tutti i calcoli Tanto non mi trovi Scema Ma la vera domanda Ma perché si chiama Pomodoro Non è affatto d'oro Mamma mia Per favore Dopo me Meriti Meriti l'impiccaggio No nel senso Mi dissocio Comunque Allora Eccoci qua Dove cavolo sei? Tre minuti Tre minuti ragazzi Tre minuti Ha trovato solamente Due persone Dai 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 Due Ok In questo momento Mi serve nuovamente Il vostro aiuto Dovete in questo momento Lasciare tanti like Così che la percentuale Del ritrovamento di zoe Si possa abbassare Avete capito bene Quindi fatelo ora Iniziate a Lasciare tanti like Ecco stanno arrivando i like Ecco 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 la mia probabilità Adesso si è alzata Del 90% Di non essere trovato Sì Ah certo Io non trovo nessuno Eh no Mi dispiace Il video comanda I fan comandano E loro mi hanno permesso Di fare questo potere Vabbè ma il 90% Non è il 100% Quindi Non è il 100% Posso dire la mia No Sì Un luco è molto sveglio Chi Niente L'ha trovato L'ha trovato Però Però Eh ma perché Tu ti eri avvicinata Giusto giusto Eh quella Poi dopo un po' Giusto giusto Non è che comanda te Comanda il video Eh mi dispiace Andiamo a cercare gli altri Dato che voi siete ancora scarsi E non riuscite a trovare Veramente nessuna persona All'interno di questo mondo Sì sì Io ho trovato Non c'è bisogno Io veramente non so Che cosa ci sta accadendo In questo video Comunque Vediamo un attimo Ragazzi dovete stare attenti Perché Ivi Dato che è fatta Con i capelli verdi A lei piace Ma l'ho trovata L'ho trovata Ah ok niente Allora Elos Sono i capelli verdi Ecco Mi nascondo Mi vipetizzo Allora mancano Elos Sì Nelle piante Si potrebbe nascondere Elos Io sono un gris Ma cosa è Elos Raga un minuto 15 manca Ma come No ragazzi Controllate le piante Vi prego Ma infatti ha detto Che è un gris screen Io mi ricordo Che c'è un gris screen Dov'era Sì Potrebbe essere lì Ma non l'ho visto Se c'è qualcuno Sdraiato qua dietro No non c'è nessuno Sdraiato qua dietro Elos Si vengo a trovare Elos Raga avete visto Nella cassaforte Sì Ok perfetto Allora posso evitare Di andare lì Nella fauna Avete controllato Sì Eccolo Elos Era dentro il bagno Ragazzi Che cavolo Ho trovato Ok che che manca Nessuno Quanto tempo manca Nessuno Anche Ryan Che manca Scusatemi Oh cavolo Oh no Oh cavolo Mancava 30 secondi Ragazzi Silenzio 10 9 8 7 6 L'ho trovato Vero No Scusate 2 1 Niente Ha vinto Ragazzi Ho girato con voi Per tutto il tempo Mamma mia Cosa Ma non l'ho visto Aspetta non ho capito Hai fatto finta di essere catturato Esattamente Ma non l'ho visto Ma tu sei una besta di satana Ma tu meriti l'inferno Che figgini dell'inferno Brutto besta di cacca Ok ragazzi Passiamo al prossimo minigame Ok conto io Quindi Ragazzi A voi Che i generi di musica vi piacciono A me piace un botto L'art style Quindi mi raccomando Scrivetemi questo Tra i commenti Che musica preferite Ecco magari Non lo so Punk Oppure rock Oppure chill Oppure vabbè Credo che posso iniziare Già a cercare Quindi E arrivo baby No 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 Possiamo parlare Ho dato il tempo Ai miei fan Nel commentare E adesso Andiamo a cercarvi Credo che sia Abbastanza logico Eh ma perché tu sei Scarsetto ormai Ryan Ma sempre l'ha vinto Ryan Sì ma come hai vinto Barando pezzo di cacca Quindi Non ho barato Mi sono mimetizzato Hai fatto finta Hai fatto finta Di essere quelli che cercano Quindi Sei una schiappa Questo implica Il mio quaziente intellettivo Maggiore al tuo Ma che Guarda te Come mi sta arrestando male Davvero eh Comunque io Veramente Non ho ancora trovato nessuno E sto veramente Bazzicando come un idiota Ciao ciao È scarso Perché mi hai salutato Elox Ti sembra un po' Ti sembro vicino Forse Non credo che nelle cassaforti C'è qualcuno Ma che ci fai Ma tu stai rompendo i blocchi Guarda te come stava barando No vabbè ragazzi Ragazzi Cosa Era Ivy che stava barando No parole Stava barando Ti ho accolto sul fatto Ivy adesso vieni qua Vieni Abbiamo pure le registrazioni Ah sì Che abbiamo le registrazioni Stava barando Stava passando Da una cassaforte all'altra Rompendo i blocchi Così che io non la riuscissi a trovare No no parole Ivy ma dove cacchio sei Eccola qua Adesso Ivy Vedi che ti aspetta una punizione Alla fine del video eh Quindi ragazzi Rimanete alla fine con noi Perché Ecco 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 Ti spaventano i topi Ti spaventano i topi Ti spaventano i topi Ti spaventano i topi No l'ho flesciato Ho flesciato Ho flesciato anche io Ho flesciato qualcosa Ma Ho flesciato raga Ho flesciato tipo che c'era una persona Nell'angolo Guarda qui Cosa Entra qui Vabbè Non ci siamo pentati Ah io non sono in un angolo Quindi a posto Cavolo Ragazzi per favore aiutatemi Che mancano 2 minuti e 50 secondi Gramucia Un attimo Sì c'è la disinfestazione Sì c'è la disinfestazione Ho trovato gruppo Ho trovato gruppo Maledizione Non fallo cadere Non fai sopra E lì 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 Ah Salire Eh Elos Faci da sopra Il cisto da sotto Sì sali vai vai Ho preso Non è vero Ma come Parole Ok Io ho trovato Ryan Anca solo Zoe Ma davvero Vai Questa ragazza Mi metta così tanto brava Non va bene Ragazzi tranquilli Zoe è semplice da trovare Se trovate tre persone insieme Significa che lei Perché tre persone insieme Perché lei conta per tre persone Di 105 Vabbè Ti caccio di topi morti No Doe Perché Oh l'hai trovata Io ho lanciato un topo morto in testa Bravissime Bene Adesso 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 Però Andiamo Alla fine Ovvero Alla punizione di Puigliere Non va bene Tu Ivi vuoi fare la scaltra Con me Cioè nel senso Con me Con me Infatti Non volevo farla con te Volevo farla con Zoe Io che ero nascosta Ok Vedete tutti quanti Verso qua Adesso Ivi Sai cosa Entra qua dentro Entra qua dentro Mettetene in survival Mettetene in survival Ok Ok Perfetto E adesso Scusa perché dovrei stare qui Ryan per favore Ecco Ok Buona fortuna Ivi Perché Ciao Ivi È stato bello Ciao Ciao Ivi Oh mio dio Chiudete 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 Stupendo Oh mio dio Ivi tutti è posto Stanno combattendo Un scontro in atto Oh mio dio Non si sente più il suono Ivi Ragazzi apriete Ragazzi ragazzi Andiamo Ricuperiamo Ivi Ivi Ah Ivi Ma è ucciso Certo Una donna va sempre con una spada in mano Mi hai mai barato di nuovo È bene Ivi Guardati Guarda qua Che schifo Quelle cose ti fanno spaventare solamente a te Zoe Ma è proprio scomparsa Assurdo Guarda qua Grazie a tutti